E' questo che non posso perdonare. Il mio campione. Ti sono contento che sei fuori. Ragazzi, dobbiamo festeggiare. Chiamiamo un po' di donne? Ne conosci qualcuna di carina? Tipo tua madre? Chi gliel'ha detto secondo te? Questo lo manda dritto in galera. A vita. E' ora di fargliela pagare. Ma prima ci serve un'auto veloce. Allora pronti? Via. Correre è un'arte. Ma correre con passione è la vera arte. E io vi dico che Tobey Marshall guida il carro degli dèi. Intendo dare sei milioni di dollari a chiunque riuscirà a fermarlo. La risolveremo dietro al volante. Io posso sentire l'amore. La vendetta. L'olio del motore. Che girano tutti insieme. C'è un mandato di cattura su di te in dieci stagli. Forse dobbiamo ripensare il piano. Non mi fermerò mai. Giù i ganci! Tu sei fuori di testa. Mi piace. Mi piace. Ho!